Ciao a tutti amiche e amici e bentrovati nel nuovo video del calendario dell'avvento andiamo a scoprire questa sera le caselline 15, 16 e 17 del nostro calendario 15 che è questa qua giù, vedete? Eccola qua apriamola insieme e vediamo che cosa nasconde al suo interno la cipria HD di NYX si chiama Finishing Powder e è una cipria ad alta definizione in HD veramente che cosa promette di fare questa, di opacizzare, di andare a settare il vostro make up in modo in alta definizione, quindi che cosa vuol dire che i pori saranno minimizzati quindi di fronte a una telecamera o comunque a una videocamera la pelle risulterà veramente perfetta e opaca quindi questa è la cipria in HD, ve la faccio vedere queste sono veramente molto belle come cipria perché rispetto alle classiche trasparenti hanno una finitura molto molto più setosa guardate qua e veramente di fronte alla pelle sulla pelle vanno proprio a renderla guardate qua perfetta senza pieghette, poretti eccetera eccetera quindi varie imperfezioni questa è davvero secondo me il prodotto più carino e più bello trovato fino ad oggi all'interno del calendario perché lo trovo un prodotto molto molto utile soprattutto per i vari studi fotografici e tutte le varie cose che faccio magari durante l'anno cerimonie e quant'altro e questo è veramente un piccolo formato comodo e tascabile 16 eccola qua vedete questa qua eccola e vediamo che cosa contiene e troviamo qua un'altra bellissima tinta ed è questo bellissimo marsala come colore eccolo qua molto bello uno dei colori di tendenza del prossimo anno questo è veramente bello ha una punta di rosso ed è super matte quindi lo potete portare con un eyeliner nero un ombretto anche sul grigio un bianco e un nero con una sottile rega di eyeliner questo qui è molto bello ed è sempre in formula mousse la 17 vediamo dov'è è qua eccola qua in fondo al nostro calendario questo sarà sicuramente ecco qua un'altra meravigliosa piccola 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 chicca che è il butter gloss sulla tonalità del rosa questo lo vedo un colore però un pochino più primaverile non adatto diciamo molto a questa stagione più inverno all'autunno però è molto carino questo in estate primavera si sposa bene con dei look colorati molto freschi sempre così luminoso quindi i prodotti di questa sera erano là sempre in alta definizione adesso ve le faccio rivedere eccola qua la tinta labbra color marzala e questo butter gloss rosato quindi vi ringrazio è stato un piacere anche stasera ritrovarci e vi abbraccio al prossimo video ciao